Dopo aver visto i migliori smartphone da 100€ e quelli da 200€ adesso è il turno della fascia di 300€ perché ci sono delle novità appena arrivate sul mercato Come sempre in ogni video di fasce di prezzo andrò a selezionare i migliori a mio avviso per rapporto qualità prezzo quindi iniziamo subito Io direi di partire subito con quello che a mio avviso è il migliore in questa fascia di prezzo ovvero il Samsung Galaxy A52 Successore del Galaxy A51 ha un display Super AMOLED Infinity da 6.5 pollici con risoluzione Full HD Plus e refresh rate a 90Hz Esiste sia nella versione da 4G che quella con il 5G A bordo troviamo 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile Ben 4 le fotocamere di cui la prima è da 64MP con OIS Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 25W Per maggiori informazioni potete consultare la nostra recensione Al secondo posto si classifica uno smartphone di Oppo Oppo è uno dei brand che più mi sta piacendo in questo periodo E l'Oppo Reno 4Z merita la seconda posizione Design ultra sottile, leggero al tocco, Oppo Reno 4 racchiude in sé le migliori caratteristiche della serie Reno Slanciato, ergonomico, può essere tenuto facilmente in mano ed è un perfetto compagno di avventure Offre un display da 6.57 pollici con refresh rate da ben 120Hz A noi è piaciuto tantissimo, non mancano alcune piccole lacune ma come sempre nella recensione completa trovate tutti i dettagli Terzo posto troviamo uno smartphone di Xiaomi, precisamente lo Xiaomi Mi 11 Lite Ultrasottile, molto leggero e sicuramente tra i migliori cellulare in questa fascia di prezzo A 6GB di RAM, 64 o 128GB di memoria interna, sempre espandibile E il suo display è un AMOLED da 6.55 pollici Con risoluzione full HD+, e refresh rate a 90Hz Tre sono le fotocamere presenti, di cui la prima ha un sensore da 64MP La batteria è da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W In quarta posizione ho voluto premiare uno smartphone dall'ottimo display Sto parlando del TCL 20 5G Si tratta di uno smartphone pensato per chi ama a guardare film e serie TV sul proprio dispositivo mobile Perché il vero punto di forza di questo TCL 20 5G è nel suo schermo 6GB di RAM, 128GB, la memoria interna anche qui espandibile tramite microSD E 3 le fotocamere, di cui la principale è da 48MP La batteria è da ben 4500 mAh Concludiamo con una new entry appena arrivata sul mercato Sto parlando del Samsung Galaxy M32 È da considerare a tutti gli effetti uno dei migliori cellulari sotto i 300€ Il suo display Infinity-U Super AMOLED è da 6.4 pollici Con risoluzione full HD+, e refresh rate a 90Hz A bordo troviamo 6GB di RAM, 128GB di memoria interna anche qui espandibile tramite microSD E ben 4 fotocamere, di cui la principale è da 64MP Molto bene la batteria, che è da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica ultra rapida a 25W Questi ragazzi sono a mio avviso i 5 migliori smartphone a massimo 300€ del momento Vi ricordo naturalmente che sul nostro sito troverete la guida sempre aggiornata, costantemente, ogni mese dai nostri responsabili Quindi in descrizione c'è il link, andate a consultarla Se voi avete dubbi o domande, come sempre basta lasciare un commento e io vi risponderò Noi ci vediamo al prossimo video Ciao